La fase forzata di stop dei mesi scorsi dovuta al covid potrebbe indurti a pensare di recuperare il tempo perso aumentando il numero di allenamenti settimanali o la durata dei tuoi allenamenti. Più mi alleno e più risultati ottengo. Ma questo tipo di... Ma questo tipo di approccio potrebbe essere controproducente e anziché portarti benefici causare una involuzione in termini di risultati. Tutto dipende dal tuo livello di allenamento e da quello che hai fatto o non fatto nei mesi precedenti alla pausa forzata. Se ti sei sempre allenato in modo regolare e costante tutti i giorni allora potrai tranquillamente riprendere la tua routine sia in termini di intensità che di quantità. Ma se invece hai sempre svolto fino a quel momento due o al massimo tre allenamenti a settimana allenarti tutti i giorni per i prossimi mesi ti servirà a poco. I muscoli hanno bisogno di essere stimolati tramite l'allenamento per ottenere un miglioramento ma hanno bisogno anche di recupero e riposo. Ricorda che in seguito ad un allenamento fornisci uno stimolo ai tuoi muscoli ma oltre a questo avvengono all'interno del tuo corpo tutta una serie di fenomeni biochimici e fisiologici atti ad apportare miglioramenti. Questo fenomeno post allenamento si definisce supercompensazione. Nelle ore successive ad un allenamento si raggiunge la fase di affaticamento durante la quale le scorte energetiche sono ridotte e si avverte spesso la sensazione di stanchezza e dolore muscolare. In seguito vi è la fase di compensazione durante la quale il corpo invece mette in atto tutta una serie di processi con l'obiettivo di ripristinare i livelli massimi di energia ed è proprio questa la fase migliore per fornire un nuovo stimolo ai tuoi muscoli. Un soggetto allenato è in grado di recuperare in tempi brevi e quindi di raggiungere la fase di compensazione quella durante la quale è meglio fornire un nuovo stimolo più velocemente rispetto ad un soggetto meno allenato. Un soggetto poco allenato infatti avrà tempi di recupero più lunghi e di conseguenza anche i tempi tra uno stimolo e l'altro cioè tra gli allenamenti deve necessariamente tener conto di questo fattore. Allenarsi durante la fase di recupero dei tuoi muscoli non solo è controproducente cioè ti porta a regredire in termini di risultati ma se protratto nel tempo può essere addirittura dannoso determinando uno stress eccessivo al tuo organismo un processo che nel tempo può anche indurre il catabolismo muscolare ovvero distruzione muscolare. Il mio consiglio soprattutto per un soggetto poco abituato a volumi di lavoro alti è quello di concentrarsi sulla qualità e l'intensità dei propri allenamenti e meno sulla quantità cioè sul numero di allenamenti settimanali. Anche per oggi è tutto se hai domande da farmi non esitare a lasciare un commento qui sotto al video ci sentiamo presto e buon allenamento ciao